Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, finalmente, dopo tanto tempo, riesco a presentarvi Western Legends, gioco a cura di Colossal Games e Matagot ed edizione italiana, come vedete qui davanti, della MS Edizioni. Un gioco in assoluto per tutti gli amanti del vecchio West, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Western Legends è il nuovo gioco che ci hanno fornito il nostro sponsor, che trovate sempre in descrizione, ma tanto poi ve lo dirò anche a fine video, che è in sovrimpressione, Board Game Discount. Quindi le ringraziamo veramente di cuore per averci fornito questo gioco appunto per la recensione. Grazie ragazzi, è un anno ormai che si collabora con voi ed è sempre un estremo piacere, grazie. Western Legends è un gioco di, alla fin fine, di miniature ed è un gioco anche di spostamenti logistici in un open world ed è la prima volta, sinceramente, che vado a giocare un vero e proprio open world. Per farvela breve, ragazzi, sembra di giocare Red Dead Redemption in versione board game. Potrete fare la carriera del ladro di mandri, ad esempio del giocatore di poker, potete diventare anche un marshal al servizio dello stato federale e dello sceriffo o un bandito. Potrete fare assolutamente quello che volete in un gioco che mette in competizione i giocatori, perché vince ovviamente il pistolero che fa più punti leggenda e quindi diventa una leggenda o come marshal o come criminale e quindi ne può vincere soltanto uno. Tutti quegli altri perderanno. Diciamo che il pistolero, il giocatore più leggendario, avrà vinto la partita. Quindi per forza di cosa a un certo punto dovrete trovarvi in competizione. Però è un gioco dove tranquillamente vi potete anche non trovare in aperta competizione tra un giocatore e l'altro, ma semplicemente muovervi meglio. E se nessuno vi mette bastone fra le ruote, è un gioco che come tematica si è PvP, ma non per forza. Insomma, ognuno può farsi la sua strada senza per forza andare a combattere. Ed è fatto veramente, veramente molto bene e a me ovviamente piace molto, anche perché sono fanatico dell'ambientazione del vecchio West. Sono iscritto ormai da una vita al sito farwest.it e quindi lo volevo assolutamente per forza. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco bella grande. Tra l'altro qua sopra, vedete, ci sono dei pistoleri famosi. Questo non so se è Bass Ribs. Comunque questo è Wild Bill Eacock. Si riconosce le due pistole, le colte nevi sue, poi il tipo di vestiario, baffone e tutto quanto. E questa dovrebbe essere Anne Oakley, che praticamente era una cecchina famosissima del West e tra l'altro che ha anche addestrato al tiro molti soldati dell'Unione durante la guerra. E vedete, la confezione è bella grande, anche perché è veramente ricca di contenuti, con il disegno, i colori, mi garba da morire, in edizione italiana di MS Edizioni. Apriamo. Regolamento di gioco. Anche questo qui, ragazzi, veramente veloce. Basta leggerlo veramente un paio di volte per capire tutto quanto. Tra l'altro, qua giù dietro vi fa vedere il setup per una prima partita. Quindi un setup semplificato senza mettere troppa carne al fuoco. Ma detto sinceramente, secondo me, potete iniziare anche a giocare leggendo le regole espansi. Ovviamente qui il setup della prima partita, del tavolo come deve essere configurato. E tutte quante le regole. È veramente, ragazzi, una cavolata. È facile, facile, facile. Sembra quasi di giocare a una versione open world di Bang. L'emporio, da costruire a pezzi, dove ovviamente mettere gli oggetti in vendita. Tabellone di gioco, che ora tanto poi vi faccio vedere a modino tutto quanto aperto. Bella grande la mappa fatta da paura. E anticipo già che più avanti faremo un video, Pimp My Board Game, dove andremo a costruire realmente gli edifici, per renderlo ancora più bello. Bustina con dentro i pistoleri, che potete utilizzare. Le pedine da usare per i banditi e quella dello sceriffo. I dadi, che servono per andare a fare la ricerca nelle miniere d'oro. Pepite d'oro. Basette colorate da mettere sotto i personaggi. Quelle grigie le andate a mettere sotto i banditi, e così via. Cubettini, segnalini che servono per tenere conto dei punti, punti leggenda, punti criminale, punti Marshall e quant'altro. Un bel po' di bustine, per dividere tutte quante le vostre cose. Punti leggenda, gettone primo giocatore, gettoni delle mandrie, che si dividono per colore blu e verde. E qua sotto anche i segnalini per i punti ferita. Ripi i logativi, turno del giocatore. Plance dei giocatori, dove mettere l'equipaggiamento, le varie carte e tutto quanto. E poi qua giù imbustati tutti quanti i set di carte che ci sono all'interno del gioco, che sono ovviamente tipo le carte equipaggiamento, che potete avere o comprare all'emporio. Altre carte che sono poi le carte poker, che potete utilizzare. Non potevano non metterci le carte da poker. All'interno del gioco per fare le vostre azioni, più ovviamente tutti quanti i personaggi. Ve l'ho detto, c'è Wild Billy Ecock, c'è Billy the Kid e ogni personaggio ha un'abilità speciale. E poi tutti gli altri set di carte che vi servono per fare una partita. Come detto, non faccio più tutorial, però vi faccio vedere un pochino un'idea di gioco, anche per darvi un'idea di più o meno come funziona. Andiamo avanti. Questo è il tabellone di gioco per il setup di una partita normale. Quindi alla fin fine le cose da fare dovete sempre mettere le pepite d'oro qua giù, con i dadi da tirare per la miniera, le carte poker, i dollari divisi nel taglio 10 dollari e 20 dollari, le carte scontro, che sono queste qua giù. Prendete le pedine che vi pare, alla fin fine non sono bloccate a un personaggio specifico. Poi gli mettete 6 basi grigie e le mettete dove c'è il simbolo del bandito in tutti quanti qui in giro per la mappa. Poi, a seconda del personaggio che avete scelto, vi faccio vedere, io ho preso per diritti di cronaca ovviamente perché lo adoro, Wild Billy Ecock, il principe dei pistoleri, e lui inizia a Red Falls. Qua giù vedete dove c'è il cabaret. Quindi lui, il personaggio, inizia qui con l'equipaggiamento che gli viene dato dalla sua carta che vi faccio vedere a breve. Poi, semplicemente nel setup dovete dividere il mazzo missioni in due e le dovete mettere così a faccia lì in su e poi dovete mettere il vostro cubettino, uno vicino al tracciato ricercato, uno vicino al tracciato Marshall e il segnatore dei punti in leggenda, sempre del colore e lo scelto di Wild Bill, qua giù sul tracciato. Vedete, sono divisi in 5 punti per una partita brevissima, veloce. Oppure, il tracciato è diviso per anche altri punteggi che potrebbero essere intermedi. 10, 15, 20, quello poi lo vedrete direttamente dal setup che avete fatto della partita. È un gioco, come vi dicevo, open world. Quindi lo scopo del gioco, senza andare nelle regole ragazzi, perché come ho detto tutorial non ne voglio più fare, è quello di spostarsi per la mappa e ciascun personaggio all'inizio del proprio turno ha 3 azioni. Di solito un personaggio per ogni azione si muove di 2 caselle adiacenti, ovviamente anche in diagonale e cose del genere va bene, non potete passare dove è tratteggiato con la montagna, o se avete un cavallo vi potete muovere di 3 o di 4, a seconda del cavallo, insomma, tanto le caratteristiche sono scritte. Lo scopo del gioco è visitare tutti quanti questi punti in gioco per fare i punti leggenda. I punti leggenda si possono fare in tante maniere, perché potete diventare un leggendario tutore della legge, un Marshall, o un leggendario ricercato. Potrebbe venirmi in mente appunto un Wyatt Earp come Marshall, oppure un Jesse James come criminale. Ad esempio, se voi andate qua giù nella miniera, potete andare a tirare i dadi miniera e a seconda di quello che esce potete prendere uno o più pepite d'oro. Le pepite d'oro devono essere portate alla banca, ovviamente trasportate, vendute alla banca per guadagnare dollari, che potete spendere per le emporie e per l'equipaggiamento, oppure semplicemente anche per prendere punti leggenda, per diventare un minatore. Non per forza dovete fare il pistolero in questo gioco, potete anche fare il minatore o il ladro di mandri. Ad esempio, qua giù, come vedete, è un'altra miniera, un altro punto dove si può andare a minare. Questo è l'ufficio dello sceriffo, questo qua giù è l'emporio, con le carte dove potete andare per comprare i vostri oggetti. Poi ovviamente c'è immancabile il saloon per andare a giocare d'azzardo, la banca, come vi dicevo, per andare a comprare oggetti, il cabaret, appunto da cui tra l'altro parte Wild Bill e dove si può anche andare a giocare a poker, perché c'è in gioco il Texas Hold'em, e poi qua giù vedete le mandri, qua giù le mandri di colore blu, che sotto praticamente girandole hanno un reward quando le porterete, e di qua quelle verdi. Per farvela breve, se voi andate col vostro personaggio a prendere una mandria blu e la portate nel recinto delle mandri verdi, al momento che l'avete portata la mandria blu girate e vedete cosa c'è sotto, in questo caso ottiene un punto leggenda, e poi la rimettete subito nel blu. Praticamente avete rubato una mandria per rivenderla a un altro ranch e vi dà dei punti ricercati, che vi faccio vedere. Se invece la mandria, che sia verde o che sia blu, ne potete portare una soltanto, la portate al treno, è un'azione pulita e legale federale e quindi invece vi darà punti leggenda e non punti ricercato. Quando finite nella casella di un criminale dovete andarlo a combattere, e per combattere un criminale si giocano le carte da poker che si hanno in mano. Pescandole da qui si va a vedere ovviamente che al seme più alto vince, scusate, il numero è il seme, quindi nel caso Wild Bill ha tirato fuori un 10 e il criminale ha tirato fuori invece un 8, 10 batte 8, quindi criminale sconfitto, punti leggenda per Wild Bill. Se invece fosse alla rovescia, un punto ferita e potrebbero succedere delle cose. Quando giocate delle carte potete rinforzarle anche con le carte che avete in mano, o usare il bonus che c'è scritto sotto. Quindi non solo vai a giocare alla carta, ma se la carta dice durante uno scontro a fuoco fai più ferite, voi dovete andarlo a applicare subito. Oppure quando andate ad affrontare un altro giocatore, facciamo conto che questo non sia un criminale ma un altro giocatore, praticamente potete fare tre azioni. O sconfiggerlo e prendere punti leggenda, o derubarlo e togliergli soldi, pepete d'oro, mandri e cose del genere, o se siete un uomo di legge e lui invece è un giocatore ricercato, potete arrestarlo, mandarlo nell'ufficio dello sceriffo e praticamente prendere anche lì punti leggenda. Ragazzi, tutto quello che fate girando in questa mappa vi porterà sempre soldi, carte da poker e punti leggenda. Lo sceriffo è un NPC. Lo sceriffo quando una carta o un evento vi dirà di muoverlo, voi dovrete muoverlo, il giocatore attuale lo dovrà andare a muovere sempre nella direzione dove c'è un giocatore ricercato. Perché se lo sceriffo finisce nella casella di un ricercato, parte il duello con le carte da poker e lo vince, ovviamente il giocatore perde delle cose, gli bloccate un turno e viene mandato nell'ufficio dello sceriffo. Praticamente viene arrestato. Missioni qua giù, che quando le completate, che ne so, se siete un giocatore solo, vi basta soltanto completare il primo step. Se siete dai due a quattro giocatori, un altro giocatore deve completare questo e questo. Quando completate l'obiettivo che c'è scritto sopra, quindi la carta la togliete, la scartate e guardate quella sotto, andate a guadagnare tutto quello che c'è scritto sopra. Il gioco porta avanti i punti leggenda, perché voi quando guadagnate i punti leggenda, se siete nel tracciato Marshall, un punto leggenda, vedete, due, tre, quattro, cinque, andate avanti, non solo guadagnate quello della casella, cosa c'è scritto, ma a fine turno guadagnate anche i punti leggenda indicati di qua. Quindi se voi foste allo step 6 del Marshall, guadagnereste quattro punti leggenda, più altri due punti leggenda a fine del turno. Stessa cosa nel coso del ricercato, come vedete, che andando avanti vi fanno pescare carte e vi danno punti leggenda. Quando andate all'emporio, vedete bellino, tra l'altro ci ha voluto un pochino a mia moglie per capire come montarlo, ma ci si è fatta, c'è un emporio qui davanti, un po' come a Bang, vi ricordate, e potete comprare tutte le carte che sono qui davanti, tutte potete avere anche tre cavalli differenti, però dovete sceglierne soltanto una a turno, uguale le armi, potete avere anche tutte le armi del gioco, ma potete scegliere soltanto una in quel turno lì, e potete comprare l'oggetto che ha un costo in dollari, quindi spendete i vostri dollari e lo comprate, tutti gli oggetti del gioco hanno una variante normale, e se ripagate un'altra volta il costo, una variante avanzata. Quindi potete, che ne so, comprare un cavallo molto migliore, un asino molto migliore, o un'arma molto più potente. Scheda del personaggio dove dovete andare a mettere la scheda del vostro personaggio con l'abilità speciale, girandola da questa parte vi dice il setup iniziale, in questo caso qui le risorse che ha Wild Bill Eacock, segna punti ferita, qui è pulito, non ha niente, subita una ferita, subite due, subite tre. Ah, in questo gioco non si muore, ed è una cosa che lì per lì mi ha fatto storgere il naso, invece poi l'ho apprezzata perché non ti fa alzare dal tavolo ragazzi, non puoi morire. Qui perdi il gioco se non sei il personaggio leggendario alla fine della partita, non puoi morire, però perdendo punti ferita perdete carte. Quindi qui potete tenere cinque carte da poker in mano, già se subite una ferita, scalate, potete tenerne quattro, tre, e vi dovete poi dopo andare a curare direttamente dal dottore. Scheda del personaggio, scheda dell'arma, equipaggiamenti, che ne potete avere massimo tre dietro, dollari, che vi potete portare, più tutta la zona per le pepite, mandri e cose del genere, e qui la cavalcatura. E ovviamente le carte da poker che devono essere coperte, queste ve le tenete al lato del tavolo vicino al personaggio. E vi ricordate sempre che quando le andate ad utilizzare, di solito se ne usa una da mettere in campo, però poi potete usare tutti gli altri effetti che avete in mano, solo gli effetti, non i numeri, vince chi ha la carta più alta. Sia che combattiate un altro giocatore, che combattiate o lo sceriffo nel caso dei criminali, o i banditi se siete un pistolero o un marshal, oppure potete usare direttamente, come vi ho detto, l'abilità che c'è in fondo, il bonus. Ragazzi, il gioco è molto veloce, ripeto, non faccio più tutorial, però ve l'assicuro veramente, va via, che è una bellezza. Il regolamento è molto, molto, molto immediato, e anche facile, secondo me, da ricordarsi. In conclusione, ragazzi, Western Legends, secondo me, è il gioco più facile del mondo, e mi sembra, più che ci gioco, mi sembra veramente l'evoluzione di Bang. Mi sembra, è tutto quello che avrei voluto che diventasse Bang in un gioco alla fin fine Sandbox Open World, ed è veramente perfetto e divertente. Per tutti gli amanti del West, come me, è uno spettacolo, e soprattutto per tutti gli amanti degli spaghetti Western, ancora di più. Veramente bello, ci vorrebbe qualche musichetta, veramente di Morricone, messali accanto, che fa il tema giusto di sottofondo, ed è un gioco dove, secondo me, farete divertire chiunque. Ma lo potete portare anche al tavolo di persone non prettamente fissate del West, perché comunque le regole sono molto facili, e ripeto, è anche abbastanza accattivante come gioco. Vi ricordo, e ringrazio, se lo volete acquistare direttamente da Board Game Discount, grazie per averci fornito questa copia per la recensione, che, primo link in descrizione, e in sovrimpressione, vi ricordo che su Board Game Discount trovate i giochi ai migliori prezzi sul mercato, e anzi, magari, contattateli direttamente, fateli presente che, prima dell'acquisto, al supporto, fateli presente che arrivate dal canale di Coridan, perché vi tratteranno al meglio. Magari vi faranno avere anche dei giochi al minore prezzo possibile, e magari anche fuori catalogo. Quindi, se un gioco non lo trovate, contattateli, che ve lo fanno avere almeno, e dicendole che venite al mio canale, appunto, ve lo fanno anche trovare. In più, senza nessun tipo di finanziamento, se non lo volete pagare tutto insieme ai contanti, lo potete pagare in tre rate. Quindi, magari, un gioco da 60 euro, lo potete pagare in tre rate da 20, e secondo me è veramente interessante. Ragazzi, per me, promossa a pieni voti, è veramente divertente. Forse, la cosa che mi è piaciuta, un po' meno, è che non mette, cioè, mette in competizione i giocatori, però non li fa tanto incontrare. Ovvio, se vedi che il personaggio A gli mancano due punti in leggenda per vincere, il personaggio B farà di tutto per mettere le bastioni fra le ruote. Però non c'è una vera e propria competizione. Sarebbe stato più bello, invece, che se da una parte sei un Marshall, e da una parte sei un criminale, io, per forza di cose, sono forzato, magari anche dalle regole venite a prendere. Invece è proprio Red Dead Redemption. È un open world. Qui ognuno fa cosa li pare, però quello che fai cerca di farlo bene, che ti porti a vincere. Puoi vincere anche come minatore, e il ladro di mandri. Assolutamente, non ti dicono di essere un pistolero. Però magari quello che fa il Marshall, e va al giro per la mappa, ad arrestare tutti quanti i criminali, farà più velocemente i punti di te. Quindi, non vi troverete molto spesso a scontrarvi, però è meglio mettersi un po' bassoni fra le ruote, che sennò qualcuno rischia di prendere la via, tutto quanto in discesa e vincere. Molto interessante, e fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!